Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di The Last of Us. Se vi li siete persi ci sono i miei commenti per ogni episodio uscito fin qui. Vi lascio la playlist nelle schede. Oggi parliamo con spoiler del settimo episodio, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. Bene, che cosa penso di questo settimo episodio? Mi è piaciuto tantissimo. Tornano infatti i miei tanto amati flashback, che in questo episodio occupano gran parte dello spazio narrativo. L'episodio infatti va in profondità nella caratterizzazione del personaggio di Ellie e nel sviscerare quello che è il suo trauma e il suo passato. Come il terzo episodio anche questo è ambientato quindi per la stragrande maggioranza nel passato, ma serve ad inspessire il presente e la caratterizzazione appunto del personaggio di Ellie. Il trigger di questo lungo ricordo, di questo lungo trauma, è appunto il ferimento di Joel. Ellie infatti pensa di stare per perdere la figura paterna acquisita, pensa di stare per perdere l'unica persona che le è rimasta e quindi deve prendere una decisione. Deve decidere se abbandonare Joel per salvarsi la pelle, quindi continuare ad andare avanti come lui le ha insegnato, oppure fermarsi, restare e cercare di fare il possibile per salvargli la vita. Prende questa decisione solo dopo aver rivissuto in pochi istanti quello che è stato il suo trauma e infatti scopriamo quello che è un po' il trauma di Ellie. Scopriamo che cosa è avvenuto realmente al centro commerciale quando Ellie è stata ferita dall'infetto e ha scoperto di fatto di essere immune. Come avevo immaginato e come avevo già detto già in un precedente commento, Ellie non era sola in quell'occasione, era evidente dal modo in cui ha risposto a Tess quando le ha fatto domande al riguardo, ma avevo pensato che potesse essere convolto un innamorato, io pensavo fosse un ragazzo e invece una ragazza, Riley, migliore amica ma anche qualcosa di più, che Ellie ha perso in quell'occasione. La chimica tra le due attrici è fortissima, ho capito subito che c'era qualcosa di più non appena le ho viste in scena insieme. C'è stato fin dall'inizio un non detto tra le due, dagli sguardi, dai movimenti, da alcune frasi dette in mezza bocca che hanno fatto capire pian piano a me e immagino a tutti gli spettatori che il loro rapporto non era solo un'amicizia ma qualcosa di molto più grande. Devo dire che immaginavo questo avvenimento con l'infetto più tragico, nel senso che immaginavo ci fosse più responsabilità da parte di Ellie per la morte della persona cara, invece di fatto Ellie è stata trascinata fuori dal letto, è stata trascinata nel centro commerciale e in più di un'occasione ha chiesto di andar via, quindi diciamo che se vogliamo può scaricarsi di questa colpa anche se il senso di colpa del sopravvissuto, ahimè, non l'abbandonerà mai. Come dicevo poi questa puntata serve anche a rimettere in prospettiva alcune delle cose che Ellie ha detto nel corso di questi episodi, ad esempio il fatto di aver già avuto a che fare con degli infetti in questa occasione appunto, e anche la frase che faceva riferimento all'aver ucciso prima. Qui non viene fatto vedere cosa accade dopo che le due ragazze sono state ferite, ma sappiamo che Ellie è immune e che invece Riley non lo è, quindi è presumibile che ad un certo punto Ellie possa essersi trovata nella condizione di doverla uccidere. Sono contenta che non ci abbiano mostrato questa parte, è molto più devastante a livello emotivo immaginare ciò che è successo, non saperlo per davvero. Non so se nel gioco viene detto, viene mostrato quello che accade dopo, però non è necessario saperlo per certo. Diciamo che la tragedia è già consumata quando entrambe le ragazze sono ferite e sai già che ne sopravviverà solo una. Come sempre poi sono molto bravi secondo me a gestire l'ambivalenza tra l'orrore della situazione circostante, della situazione di emergenza che stanno vivendo queste ragazze, e il genuino stupore, il genuino divertimento che possono provare appunto due ragazze adolescenti, due giovani adolescenti che tra l'altro non hanno avuto esperienza del mondo. Sono molto più ingenue, molto più immature, molto più infantili per quanto riguarda la conoscenza del mondo come noi lo conosciamo oggi, perché il mondo in cui sono nate e cresciute è molto diverso. È bellissimo vedere lo stupore, l'entusiasmo di Ellie alle prese con una scala mobile, così come è stato molto divertente vederle interagire con cose normalissime come sale giochi, negozi di costumi o delle semplici giostre. È stato bello perché è stato come vedere un pizzico di normalità, sembrava un primo appuntamento tra due persone che si piacciono in un mondo normale, però il mondo non lo è normale, è alle prese con un'epidemia e noi spettatori sappiamo che sta per succedere qualcosa di brutto, lo sappiamo perché ci vengono mostrati i tralci appunto dell'infezione, del fungo, ma lo sappiamo anche perché ricordiamo che Ellie è stata ferita per la prima volta in un centro commerciale, quindi è presumibile che sia per accadere qualcosa di molto brutto. Molto bella l'interpretazione di Bella Ramsey in questo episodio, che riesce a mostrarci tutto lo spettro di emozioni umane, dall'entusiasmo alla rabbia alla tristezza, ha il panico puro quando vede la ferita sul suo braccio che cerca di lavare via con una mano, in un gesto istintivo, futile, che però mostra tutto l'orrore, il terrore di quel momento. Bellissime anche le scenografie, ho trovato la ricostruzione di questo centro commerciale distrutto, abbandonato, veramente molto ben fatta, sembrava veramente di essere all'interno di un centro commerciale abbandonato. L'ho trovata una location molto suggestiva, che ci riporta un po' all'interno della situazione post-apocalittica, dal precedente episodio in cui invece eravamo in un panorama molto più idilliaco, e molto più isolato e naturalistico. E poi arriviamo alla fine dell'episodio, l'episodio si chiude dove si è aperto, Ellie prende finalmente una decisione, torna da Joel, cerca qualcosa per poterlo aiutare, e decide di prendersi cura di lui, come evidentemente non ha potuto fare con Riley. Sceglie quindi ancora una volta di lottare, di sperare che le cose possano andare per il verso giusto. Trovo che questa dinamica sia molto interessante, sarà molto interessante vedere questo ribaltamento dei ruoli nell'episodio successivo, infatti adesso Ellie a doversi prendere cura di Joel e non il contrario, quindi sarà molto interessante vedere questo switch nelle dinamiche di coppia. Che dire quindi, l'episodio mi è piaciuto molto, mi è piaciuto sapere più di Ellie, mi è piaciuta l'interpretazione di Bella Ramsey, mi è piaciuto vedere questo ispessimento del personaggio, forse leggermente lento in alcune parti, però diciamo che non è stato niente di disturbante, non ha intaccato il godimento della puntata. In generale io non amo gli episodi flashback a questo punto delle storie, stiamo per arrivare all'apice della storia, mancano solo due episodi, questo dovrebbe essere il momento di massima tensione, e il flashback invece arresta la narrazione per andare in profondità. Avrei magari preferito avere questo momento posizionato in un altro momento della serie, qui trovo che spezzi un po' il ritmo, però anche qui niente di disturbante. In sé l'episodio mi è piaciuto, è stato qualitativamente molto valido, e quindi va bene così. Non ho idea di che cosa debbano ancora raccontare, ma sono un po' preoccupata per gli ultimi due episodi, perché mi sembra che la storia non sia arrivata ancora al dunque, e quindi o gli episodi saranno molto lunghi, oppure forse magari la serie si concluderà con un cliffhanger, non lo so, vedremo, però ecco ho paura che magari corrano un po' troppo negli ultimi episodi, poi magari no perché non ci è rimasto molto da raccontare, questo me lo direte voi che avete giocato al gioco, mi raccomando senza fare spoiler. Quindi niente ragazzi, l'episodio mi è piaciuto, la serie continua a convincermi, nonostante ecco magari ogni tanto rallenti un po' troppo il ritmo, o si prenda un po' troppo tempo per cose che secondo me non sono necessarie. Un esempio sono tutti i dettagli sulla stanza di Ellie, che sono palesemente fatti per far notare le easter egg ai videogiocatori, ma che non apporta nulla alla trama. Quindi diciamo che ci sono dei piccoli difetti, quella delle piccole cose che non mi hanno convinto, ma in generale la continuo a trovare una serie molto molto valida. Adesso lascio la palla a voi, fatemi sapere se avete visto la puntata, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta e perché. Fatemelo sapere nei commenti, noi ci vediamo, si fa per dire al prossimo video e ciao!